Iscriviti al canale per non perdere altre notizie sul mondo del gossip, una notizia straziante ha scosso il panorama dell'intrattenimento italiano. Albano Carrisi, il celebre cantante, è stato sorpreso in lacrime a causa delle critiche condizioni di salute di Romina Power, sua ex compagna e storica complice musicale. Questo evento ha generato un'enorme preoccupazione tra i sostenitori, scatenando manifestazioni di affetto per la celebre coppia della musica italiana. Albano e Romina Power, protagonisti di memorabili canzoni, hanno condiviso il palcoscenico e la vita per molti anni. Recentemente, Romina ha affrontato problemi di salute che hanno profondamente colpito entrambi gli artisti. Sebbene i dettagli precisi sulla salute di Romina non siano stati resi pubblici, Albano è visibilmente turbato dalla situazione. Fonti vicine alla coppia riferiscono che il cantante ha affiancato Romina nel suo complesso percorso medico, manifestando profonda preoccupazione per il suo benessere. Attualmente, Albano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla condizione di Romina, preferendo mantenere la sua sfera privata al di fuori dei riflettori. Continuate a seguirci per scoprire il finale di questa complicata e romantica storia.